Spezziamo il pane è un'iniziativa di Carità Soledigiana che nasce nel 2002 e ha lo scopo di coinvolgere le nostre comunità parrocchiali in un gesto concreto di solidarietà e di condivisione. Nella notte dei forni viene preparato il pane che tra poche ore arriverà sulle tavole dei lodigiani. Stiamo preparando 16.000 panini per le 53 parrocchie che si sono prenotate. Con la Caritas abbiamo sposato questo progetto e lo portiamo avanti con piacere. Proseguiamo la tradizione del nostro padre che è 20 anni che fa questo servizio qua. ma rispecchiano ancora i valori di una volta, delle tradizioni anche ed è una bella cosa. Ho partecipato anche lo scorso anno e appunto si fa del bene, quindi è una bella levataccia ma ne vale la pena. Unisce le persone e fa molto piacere essere qui. Io sono venuto per dare un contributo perché comunque due mani in più servono. Il Don in questo caso ci ha chiesto di partecipare anche quest'anno e abbiamo risposto presenti. Voglio mettermi in campo per aiutare il prossimo. Anni che partecipo a questa iniziativa e fai sempre del bene sia per la parrocchia sia anche per le persone che hanno più bisogno. Questo secondo me è un'occasione per capire e tradurre un significato che magari si dà per scontato come il Corpus Domini e qua invece vedere effettivamente il pane che si spezza e sapere che questo pane poi verrà spezzato nelle famiglie e poi in realtà il raccolto verrà per la mensa diocesana, quindi un altro pane spezzato. Io sono il pane vivo disceso dal cielo.